C'è un seminario di Lacan che si chiama la relazione oggettuale, è un nome non so se volutamente, ma comunque sbagliato, perché Lacan considera che non c'è relazione d'oggetto, ma relazione con la mancanza di oggetto. In realtà l'oggetto in questione sarebbe l'oggetto perduto freudiano, però non c'è. E questo oggetto che non c'è si ritrova di qua e di là, si ritrova nel bambino, si ritrova nella madre. Quello che è importante per esempio nella madre è esattamente che lei è mancante. È mancante di che? Proprio dell'oggetto perduto freudiano. E il bambino che cos'è che vorrebbe essere? Vorrebbe essere ciò che viene a supplire presso la madre, nella madre, l'oggetto perduto freudiano. Quindi è chiaro che lì dove si parlava di relazione oggettuale, cioè relazione madre-bambino, ebbene diventa relazione tra il bambino col fatto che la madre è mancante dell'oggetto.